... Dove sei? Fatti vedere! Mi senti? Che cazzo? Dove sei? Dove cazzo stai, ah? Dove sei? Fatti vedere, fatti sentire, che non ho paura di te. Dove stai? Non ho paura di te. Non ho paura... Capita? Sono tre ore che venivano a prendere, nessuno dei fantasmi e i fantasmi piccani sono i fantasmini. tre paio e cinque euro sono gli ultimi che mi sono rimasti facendo contente a vostro figlio e a me mi facendo mangiare qualcosa di così questo è il filo di Scozia questo è il filo di Scozia che volete prendere? che volete fare? li volete accattare? grazie a tutti